Si allunga, si allunga, 100 metri da un bellone per stare sotto l'ombra. Ma che stai a tirare ancora? Donne! Basta, dai, basta, perché ancora sono i 15 giugno, sapete che c'è gente che sta lavorando? Vado a vedere, come ora, dai. Allora, vogliamo parlare invece di... State che si avvicina, che è la situazione di passi, che è la fine della rete per l'impresa del centro deportivo municipale del Diziasi del par...